Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli italiani. Nel corso di un'intervista rilasciata a Novella 2000 la showgirl si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardo la sua vita privata GF VIP. Pamela Prati confessa. Sono pronta ad amare una donna Pamela Prati è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di quest'ultimo periodo In seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP, i giornali di Cronaca Rosa hanno parlato molto della showgirl e, in particolar modo, della vicenda legata alla questione Marc Caltagirone In questi giorni l'ex diva del bagaglino ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 Minuti dove si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardo la sua vita privata Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato. Pamela Prati non smette mai di far parlare di sé In queste ultime ore i giornali di Gossip stanno dedicando ampio spazio alla showgirl in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate in un'intervista a Novella 2000 Minuti Nel dettaglio, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha rivelato di essere pronta ad amare una donna Questo è quanto affermato da Pamela Prati durante l'intervista Se potrei mai provare qualcosa per una donna? Certo che potrei. Non escludo niente Perché io sono una vera esteta e mi lascio sedurre dalla bellezza a 360 gradi Chissà, domani potrei capitolare per una fanciulla avvenente. Sia dentro che fuori non è da escludere affatto E, continuando, l'ex diva del bagaglino è tornata a parlare della sua frequentazione con Marco Bellavia Questo è quanto dichiarato. Come stanno andando le cose adesso con Bellavia dopo il Grande Fratello VIP Con Marco ci stiamo conoscendo Abbiamo molte affinità e nutriamo un interesse reciproco tutto qui Stiamo andando piano per adesso. Ho preso abbastanza batoste da non lasciarmi travolgere dalle emozioni fin quando non ne ho chiaro il valore GF VIP. Marco Bellavia e la confessione su Pamela Prati. A me piace davvero Sin dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, Marco Bellavia ha mostrato un forte interesse nei confronti di Pamela Prati A distanza di mesi dalla sua uscita dalla casa di Cinecittà, l'ex GFino ha confermato il suo grande interesse nei confronti della showgirl Marco Bellavia. Queste sono state le sue parole a riguardo. A me lei piace Ma in realtà a Pamela mi è sempre piaciuta. Se mi fate entrare in casa io torno molto volentieri Di lei conservo dei bei ricordi. Quando ero dentro era una delle poche che mi ha capito davvero Per questo le dissi che io e lei eravamo simili. In quel momento però non ha capito bene la mia frase Quando uscirà. Spero il più tardi possibile io la rivedrò molto volentieri Poi sentiremo lei. Se le sono mancato e se vuole rivedermi anche una volta che sarà fuori Da parte mia c'è tutta la volontà di frequentarla. Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie a tutti